Intensità, tensione, resistenza, resistenza in serie e in parallelo, legge di Ohm, Malox, Hockey Task, Moment, Brufen... No, quello ultimamente è solo per il Covid. È ora di dire basta. L'elettrotecnica non fa per te? Non è vero. Seguimi fino alla fine di questo video e vedrai che domani quando tornerai al corso, o andrai al lavoro, o andrai a prendere un panino da Gino Lozzozzone, ti sentirai finalmente pronto per affrontare una discussione su questo argomento. Un argomento che ti ha levato troppe ore di sonno. Ma perché da Gino Lozzozzone si parla di elettrotecnica? Sì? Ma guarda, io pensavo si parlasse solamente... E da tal proposito, è stato facile per me imparare elettrotecnica? No, ovvio che no. Ma perché? Perché non lo è. Ma una volta compreso il principio di funzionamento di pochi, pochissimi componenti fondamentali e come applicare una manciata di principi basilari, diventa davvero alla portata di tutti l'elettrotecnica ed io con questa lezione gratuita ti aiuterò proprio a fare questo. Per tua comodità ho messo in descrizione i capitoli, così se vorrai saltare da un capitolo all'altro, se vorrai saltare al capitolo successivo, o se hai capito di non aver capito, potrai tornare al capitolo precedente. Bene, cominciamo. Elettricità e corrente elettrica. Già, elettricità e corrente elettrica non sono la stessa cosa. Facciamo un passo indietro ed introduciamo tre concetti base che ci serviranno nel proseguo della lezione per descrivere tutto ciò che è elettrico. Numero 1. Carica elettrica. La carica elettrica è una proprietà fondamentale che posseggono alcune particelle che descrive il modo in cui interagiscono le une con le altre. Ne esistono di due tipologie, una carica positiva e una carica negativa. Attenzione, le particelle che hanno lo stesso tipo di carica elettrica, che sia essa positiva o che sia essa negativa, si respingono. Quelle che invece hanno carica elettrica opposta, già, si attraggono. Gli opposti si attraggono! Ma, parliamone. Numero 2. L'energia elettrica è, lo dice la parola stessa, un'energia che viene causata dal comportamento di particelle caricate elettricamente. Numero 3. Corrente elettrica. La corrente elettrica è infine il flusso di queste particelle caricate elettricamente. È quello che più si avvicina a ciò che tutti noi conosciamo, qualcosa che tutti utilizziamo senza mai però sapere che cos'è e come funziona. Ma oggi capiremo di cosa si tratta. Abbiamo detto che la corrente elettrica è il flusso di particelle caricate elettricamente. Sì! Ma come si chiamano queste particelle? Signore e signori, vi presento gli elettroni. Ma dove sono questi elettroni? Come si muovono? Chi? Chi? Chi sono, santo cielo, questi elettroni? Per rispondere a questi quesiti dobbiamo diventare piccoli 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 a livello atomico per andare a fare un viaggio nei meandri della materia ed andare a trovare l'atomo. Gli atomi sono gli elementi di cui si compone la materia. Tutto nell'universo è composto da atomi. Dimensioni in un granello di sabbia ne trovate a milioni. Ma cosa centrano gli atomi con gli elettroni? Centrano. Centrano e come? Gli elettroni sono in ogni atomo dell'universo. Si tengono a distanza dal centro. Loro sono più tipi da periferia, se ne stanno un po' per i fatti propri, ma senza abbandonare, almeno spontaneamente, la loro terra natia. Questi elettroni hanno una carica elettrica negativa ed il motivo per cui non se ne vanno è che sono permanentemente attratti dal centro dell'atomo, dove invece risiedono i protoni, particelle che hanno una carica elettrica positiva e vivono all'interno del nucleo, insieme ai neutroni, che fondamentalmente sono neutro, non prendono posizione, sono come quegli amici che quando chiedi loro che vogliono fare sabato sera ti rispondono bah, ma guarda, per me è uguale. Elettroni e protoni sono quindi particelle dotate di carica elettrica opposta. E, come dicevamo prima, due particelle con carica elettrica opposta si attraggono. Normalmente l'atomo è composto da un ugual numero di elettroni e di protoni, ed è per questo che si dice elettricamente neutro. La trazione che c'è fra elettroni e protoni agisce come una colla che mantiene insieme le particelle autonomiche, come la forza di gravità fa sì che la luna non vada a visitare altri pianeti. Precisamente gli elettroni più sono vicini al nucleo e più sono trattenuti all'interno dell'atomo stesso, più sono lontani e minore la forza che li lega ad esso. Nel senso che con la giusta spinta questi più esterni potrebbero staccarsi dall'atomo. Alcuni materiali, come l'aria e la plastica ad esempio, vengono chiamati isolanti. Perché? Perché anche se soggetti ad una spinta molto molto forte, non lasciano andare via i propri elettroni. Sono gelosi. Altri invece, come rame, oro, argento, alluminio e altri metalli, se ne sbattono e se soggetti ad una certa spinta lasciano andare via i loro elettroni. Parliamo degli elettroni più esterni. Questi ultimi vengono definiti materiali conduttori. Ma come vengono strappati questi elettroni e di conseguenza messi in movimento? Nei conduttori, gli elettroni più esterni all'atomo, abbiamo detto, hanno un legame con lo stesso relativamente debole. L'atomo addirittura li lascia andare via, ma questi elettroni divenuti liberi, non sapendo dove andare, rimangono lì intorno all'atomo. Così, girovagando un po' senza meta. Ora, se noi fornissimo a questi elettroni, diciamo liberi, una spinta in una determinata direzione, che cosa accadrebbe? Che questi, finalmente grati di avere uno scopo nel loro girovagare, cominceranno a muoversi nella direzione della spinta. Ed eccoci arrivati al primo step della lezione di oggi. E cioè che la corrente elettrica non è nient'altro che il movimento di elettroni all'interno di un conduttore, quando viene applicata una spinta, una forza esterna. Ma come avviene? Abbiamo detto che cariche elettriche dello stesso segno si respingono, giusto? Bene. Ed infatti ogni elettrone che viene spinto respinge di fatto un altro elettrone libero di fronte a lui, di fronte a sé, lungo il percorso. E questo fa sembrare che gli elettroni si muovano istantaneamente da una parte all'altra del conduttore. Ma come possiamo esprimere quantitativamente la corrente elettrica? Coulomb! Che culo! Qualora un coulomb di carica partisse da un punto e si muovesse in un secondo di tempo, si direbbe che l'intensità della corrente elettrica generata sarebbe di un ampere. Un ampere corrisponde quindi ad un esercito di elettroni che si muovono tutti insieme in una volta. L'intensità. L'intensità è una grandezza scalare che indichiamo con I e che viene definita dal rapporto tra la quantità di carica Q che fluisce in una qualsiasi sezione trasversale di un conduttore nell'unità di tempo ΔT. I è infatti uguale a Q su ΔT. In sintesi si definisce intensità di corrente la quantità di carica elettrica che attraversa una sezione qualsiasi del nostro conduttore nell'unità di tempo. L'unità di misura dell'intensità di corrente è all'ampere e si misura con un apposito strumento chiamato amperometro. Sì, ma quanto è un ampere? Per farti un'idea, considera che le correnti che alimentano gli apparecchi elettrici di casa hanno un'intensità che va da alcuni ampere a frazioni di ampere. Anche le prese della corrente possono essere da 10, da 16, quindi non immaginate che nella lavatrice si abbia un amperaggio nell'ordine delle migliaia di ampere, ecco. Per questo motivo è più facile imbattersi in valori di corrente elettrica misurati in milliampere, ovvero un millesimo di ampere. E per azionare le locomotive, ecco qui il discorso cambia un po'. Parliamo dell'ordine dei milliampere. Molti, molti, molti di più di quanti se ne trovano tipicamente all'interno degli apparati elettronici. Tensione. La corrente elettrica è il flusso di elettroni che attraversa un conduttore e si verifica quando viene applicata una certa forza, una spinta. Ma che cos'è che spinge gli elettroni a muoversi? C'è forse qualcuno dietro che li spinge? Spingitori di elettroni! E chi spinge gli spingitori di elettroni a spingere gli elettroni a muoversi? Spingitori di spingitori di elettroni! Su, riduqueci una scena. No, tensione. La tensione è la forza che spinge gli elettroni dentro il conduttore e si misura in volt. Se applichiamo una sufficiente tensione ai capi di un conduttore, gli elettroni liberi all'interno di esso cominceranno a muoversi, ma per realizzare questo c'è bisogno che ai capi del conduttore si crei una differenza di potenziale. Allo stesso modo in cui la pressione idraulica spinge l'acqua all'interno dei tubi, la tensione spinge gli elettroni all'interno dei conduttori. Ugualmente, così come una maggior pressione d'acqua genera una spinta più forte, una tensione maggiore creerà un flusso di corrente elettrica più intenso. Ok, Jacopo, bene, ma io non ho capito che differenza c'è tra differenza di potenziale, caduta di tensione, caduta di potenziale... Non ci ho capito niente, no? Signori, questi nomi indicano tutti la stessa cosa. La tensione. Servono solo a spiegarla in modo diverso. Energia elettrica. Cerchiamo di capire come sia possibile attingere alle fonti dell'energia elettrica. Quando gli elettroni viaggiano in un conduttore, trasportano di fatto energia da un capo all'altro del conduttore stesso. Dal momento che cariche uguali si respingono vicendevolmente, che parola complicata, ogni elettrone esercita una repulsione sull'elettrone successivo, spingendolo lungo tutto il conduttore. Quindi ora siamo in grado di propagare energia elettrica attraverso un conduttore, ma poi... Se fosse anche possibile trasportare tale energia verso un oggetto che permetta di svolgere un lavoro, un utilizzatore, come ad esempio un motore elettrico o una lampadina, Ok? Molto semplicemente. Potremmo non solo mettere in movimento l'energia, ma anche usarla. L'energia elettrica trasportata dagli elettroni verrebbe quindi usata dall'oggetto e trasformata in un'altra forma di energia, come il movimento, l'energia meccanica, o il calore, la luce. Milioni di elettroni che si muovono nella stessa direzione che costituiscono una corrente elettrica. Che meraviglia l'elettrotecnica! Per far sì che la corrente circoli, dobbiamo mettere a disposizione degli elettroni un circuito in cui sia consentito loro di muoversi e iniziare a fluire, chiaramente con una batteria o un'altra sorgente di energia elettrica, che dia loro una spinta. Più è ampia la strada, quindi il conduttore, più gli elettroni saranno in grado di muoversi liberamente. POMPA! No, 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 no. Consideriamo due serbatoi di acqua A e B, con B posto ad una quota maggiore rispetto ad A. L'acqua scorre per effetto della gravità da B verso A, ma prima o poi l'acqua di B finirà e si riverserà tutta in A. Per far sì che l'acqua continui a scorrere da B verso A, è quindi necessario che il serbatoio di B sia adeguatamente riempito. E come fare? A questo amaro compito provvede la pompa P. Oggi ho una fantasia con i nomi, ragazzi, incredibile. Maggiore è la differenza di altezza fra i due serbatoi A e B e maggiore è l'energia che P deve fornire all'acqua per portarla in alto dentro al serbatoio B. Se non ci fosse la pompa che prende l'acqua da sotto e la porta sopra, il flusso cesserebbe non appena tutta l'acqua fuoriuscita dal serbatoio di B. Se invece pompiamo acqua attraverso un condotto chiuso, l'acqua continuerà a circolare fin tanto che, altra parola complicata, la incitiamo a muoversi. Allo stesso modo, per fare in modo che gli elettroni continuino a muoversi, bisogna collegare tutto ciò di cui abbiamo bisogno all'interno di un grande circuito elettrico. Sì, ma che cos'è che ci serve? Una sorgente di energia elettrica è quella sorgente che fornisce la forza che spinge gli elettroni attraverso il circuito. Un carico. Il carico è l'utilizzatore, qualcosa che assorbe energia elettrica in un circuito, come ad esempio il motore e la lampadina di prima. Un percorso, un percorso conduttivo, è il condotto per gli elettroni in cui fluire dalla sorgente al carico. In definitiva, quindi, una corrente elettrica inizia con una spinta da una sorgente e fluisce attraverso un conduttore verso un carico, dove l'energia elettrica fa il miracolo. Perché gli elettroni possano rilasciare energia ad un utilizzatore? Far accendere quindi la lampadina o far girare il motore è necessario che venga compiuto un lavoro. Il lavoro in elettrotecnica è la misura dell'energia consumata da un dispositivo in un determinato intervallo di tempo. Chiaramente, più elettroni bisogna spingere e più dispendioso sarà farlo. Potenza. La potenza è l'energia che viene consumata nell'eseguire un lavoro in un determinato intervallo di tempo. L'unità di misura della potenza è il Watt e P è uguale a V per I, quindi la potenza è uguale alla tensione per la corrente, l'intensità. Ecco, queste sono le basi dell'elettronica di consumo. Il calcolo della potenza ci serve a capire di quante energie i dispositivi hanno bisogno e non deve mai, mai, essere di più perché in quel caso genererebbe un eccesso di energia termica che porterebbe a bruciare il dispositivo e anziché farlo funzionare, quindi no, 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 questo no, no, buono, lo dobbiamo poi ricomprare e quindi è ora di fornire energia elettrica. Se prendiamo un filo di rame e lo chiudiamo su se stesso, che succede? Niente. Ma se applichiamo una spinta, sì, gli elettroni al suo interno si muovono. Tutti i circuiti hanno quindi bisogno di una sorgente di energia elettrica per mettere in moto gli elettroni. Ok, ma che cos'è realmente e come funziona una sorgente di energia elettrica? Tutte le sorgenti di elettricità fondano il proprio lavoro sulla conversione in energia elettrica di un'altra forma di energia, che sia essa meccanica, chimica, termica, luminosa. Sì, affinché il conduttore sia attraversato dalla corrente, è necessario che i suoi punti estremi siano mantenuti, si dice, a potenziale diverso. Cioè, esista tra di essi una differenza di potenziale. Ok, e come facciamo? Collegando i due estremi ad un generatore elettrico. Un generatore elettrico è un dispositivo che ha due poli, i morsetti. Uno dei quali è positivo e l'altro è negativo. Generatori elettrici. Abbiamo detto che per generare una corrente elettrica all'interno di un conduttore, dobbiamo applicare all'estremità una differenza di potenziale chiamata anche tensione elettrica, per mezzo di un generatore che mantiene i due punti, dove è connesso ad un potenziale diverso. Esempio di generatore di tensione continua è la pila a dinamo. Amore? Sì, ciao, scusa. Avevo appoggiato la pila a dinamo del camper sul divano, qui nello studio. Sai che fine ha fatto? Ah, l'ha presa a mente. No, è che stavo registrando e mi serviva per un esempio. Ah, l'ha rotta. Va bene. Sì, 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 faccio così. Ok, a dopo. Ciao. Ti amo. Ciao. Ciao. Grazie a mia figlia vi dovrete accontentare di questa. Questa praticamente è una pila a dinamo, è una macchina elettrica che trasforma un'energia meccanica, il movimento delle nostre braccia, o se è installata sulla ruota di una bicicletta, la rotazione della ruota, in energia elettrica sotto forma di corrente continua. Generatori, signori. Come avrete intuito, la dinamo non crea energia, ma bensì la trasforma. Se avete visto i miei video precedenti, ormai lo saprete benissimo. Mi riferisco al principio di conservazione dell'energia. Se non l'avete ancora fatto, prendetevi qualche minuto libero e guardatevi lì tutti. Tutti, 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 perché sono così interessanti e pieni di contenuti che non potete in nessun modo perderli. Il simbolo del generatore elettrico è questo. E come potete tranquillamente notare da soli, già include il morsetto positivo e il morsetto negativo. Morsetto positivo è quello col più e il negativo è quello col meno. Il morsetto positivo è caratterizzato da una carenza di elettroni, mentre il negativo da un eccesso. Bene, intensità fatto. Generatore fatto, manca la resistenza. Attrito e resistenza. Prendiamo una palla da bowling e lanciamola lungo una pista di sabbia. Che succede? Ovvio. La palla si fermerà quasi immediatamente. Se invece lanciamo la palla da bowling sulla sua pista bella liscia e lucidata, che succede? Già. Rotolerebbe parecchio 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 prima di fermarsi e fare magari un bello strike. In entrambi i casi è una forza a interrompere il tragitto della palla e questa forza si chiama attrito. Ovviamente la sabbia fornisce il più attrito della pista, è logico. Ebbene, la resistenza è qualcosa di simile all'attrito. Gli elettroni che fluiscono in un circuito incontrano una certa resistenza, che possiamo quantificare mediante una grandezza scalare, che viene chiamata resistenza elettrica, e che indichiamo con la lettera R. Anche qui una bella fantasia. Già. La resistenza elettrica è quindi un parametro che misura la tendenza di un conduttore ad opporsi al passaggio della corrente elettrica. Il suo scopo potrebbe sembrare negativo, data l'azione oppositiva che fa gli elettroni, ma in realtà è anche molto molto utile. La resistenza rende possibile generare calore e luce, limitare il flusso di corrente elettrica quando necessario, assicurare che la corretta tensione venga fornita ad un dispositivo. Proprio così. Facciamo un esempio classico. La lampadina d'incandescenza. Quando gli elettroni passano attraverso il filamento di una lampadina d'incandescenza, incontrano così tanta resistenza ad essere rallentati un bel po' un bel po' un e questa resistenza fa sì che gli atomi comincino a scontrarsi a vicenda, in maniera ignorante, perché gli elettroni vogliono passare e ci urtano contro, generando energia termica e quindi calore che alla fine porta alla luminescenza della lampadina. Tutti i conduttori, anche loro, fanno un minimo di resistenza al flusso degli elettroni e forse qualcuno di voi avrà sentito parlare di alcuni metalli che, se portati a una temperatura molto molto bassa, a temperature bassissime, al loro interno avviene il fenomeno della superconduttività. Lì la resistività si annulla, spiegheremo tra poco che cosa significa resistività e la resistenza elettrica diventa praticamente zero. Ma per spiegarlo dovremo entrare nel campo della fisica quantistica. Fascinante, interessante, ma non è questa la sede per farlo. A noi, purtroppo, non capiterà mai di incontrare questi supermetalli e quindi, nella nostra realtà di tutti i giorni, maggiore è la resistenza, maggiore sarà limitato il flusso di elettroni. E cioè, maggiore la resistenza, minore sarà l'intensità. Ma da cosa dipende il fatto che un oggetto abbia più o meno resistenza? La resistenza dipende da diversi fattori. Il tipo di materiale. Alcuni materiali permettono ai loro elettroni di vagare liberamente. Altri, invece, se li tengono ben stretti e saldi. Il conduttore più famoso è ovviamente il rame, ma non è l'unico. L'oro è un ottimo conduttore. L'argento, un ottimo conduttore. Lo zinco, ma diciamo che è un buon conduttore. Il discorso è che i migliori conduttori elettrici sono i metalli, per via della loro struttura atomica cristallina. Nel primo caso parliamo di materiali conduttori, i quali hanno una bassa resistività. Nel secondo parleremo di isolanti, ai quali invece è associata un'elevata resistività. La sezione. La resistenza si dice inversamente proporzionale all'aumentare della sezione del conduttore. Vale a dire, maggiore è il diametro, più è semplice per gli elettroni, cioè meno resistenza troveranno al loro passaggio. La lunghezza. Più lungo un certo materiale, maggiore sarà la resistenza che si opporrà al flusso di elettroni, cioè la resistenza è direttamente proporzionale alla lunghezza del conduttore, dato che saranno maggiori i momenti in cui gli elettroni possono urtare contro altre particelle lungo il loro percorso. La resistenza quindi varia in maniera diretta alla lunghezza. Temperatura. Eh sì, l'abbiamo già accennato prima, no? Per la maggior parte dei materiali maggiore è la temperatura, più alta è la resistenza. Alte temperature significano che le particelle all'interno dei materiali possiedono maggiore energia, si muovono di più e quindi rallentano il flusso degli elettroni. Unità di misura della resistenza? Hohm. Ma non per via dei monaci Shaolin, ma in onore del fisico tedesco George Simon Hohm, o Simon Hohm, che nonostante fosse nel 1827 e avesse a disposizione i mezzi tecnici di un Flintstone, riuscì a stabilire la legge che porta il suo nome. Che dopo vedremo. Questo è il simbolo elettrico della resistenza e queste sono alcune sue rappresentazioni. Stanchi? No? Tu sì? E vabbè, metti pausa e torna dopo. Tanto io sto qui. I resistori. I resistori sono componenti elettronici passivi, sì, stanno lì e sì, stanno fermi fermi, si fanno attraversare da... dagli elettroni. Sono concepiti per fornire al circuito un valore di resistenza prefissato. Scegliendo e disponendo i resistori in differenti parti di un circuito è possibile controllare quanta corrente riceverà ciascun componente del circuito stesso. Il loro principale utilizzo è quello di limitare il valore di corrente in una determinata parte di un circuito, ma possono anche essere utilizzati per controllare il valore di tensione fornito ad una determinata parte di circuito. La conduttanza. La conduttanza che cos'è? È l'inverso della resistenza, o meglio, la conduttanza elettrica è la grandezza inversa della resistenza elettrica e si indica col simbolo G. Se R è uguale alla resistenza di un conduttore, G, la conduttanza, sarà G uguale 1 su R. L'unità di misura della conduttanza è il Siemens. Sì, il Siemens, il cui simbolo è S. Resistività e conducibilità elettrica. La resistività e conducibilità elettrica è qui attenzione perché serve concentrazione. La resistività elettrica, anche detta resistenza elettrica specifica, è l'attitudine di un materiale ad opporre resistenza al passaggio delle cariche elettriche. La resistività elettrica di un materiale rappresenta la resistenza elettrica quindi offerta dall'unità di volume. Attenzione, cioè la resistenza che si manifesta fra le facce piane e parallele di un cubo del materiale, avente i lati di lunghezza unitaria di un metro. È quindi la resistenza dell'unità di volume, per questo viene anche detta specifica e si indica con la lettera greca R. Semplifichiamo. Più bassa è la resistività, migliore è il materiale dal punto di vista della conduzione elettrica. Ma perché non l'hai detto prima invece dei giracci? Perché dobbiamo fare un viaggio all'interno dei materiali, un viaggio a livello molecolare. La lampadina di prima, ricordate? All'aumentare della temperatura di un materiale aumenta l'ampiezza delle vibrazioni delle molecole che lo costituiscono. All'aumentare dell'ampiezza delle vibrazioni gli urti con gli elettroni aumentano e questo comporta che il materiale ostacola maggiormente il movimento degli elettroni. Questo determinerà un aumento della resistività. La resistività è quindi funzione della temperatura. Il comportamento nei confronti di quanto abbiamo detto varia ovviamente da materiale a materiale. Ad esempio nei materiali semiconduttori, all'aumentare della temperatura, la resistività diminuisce anziché aumentare. La stessa cosa avviene ad esempio per il carbone. Conducibilità elettrica. Sì, perché anche la resistività ha un suo inverso, la conducibilità elettrica o conduttività specifica, indicata con la lettera greca lambda e rappresenta ovviamente la misura dell'attitudine di un materiale a condurre corrente elettrica. Resistenze in serie. Combinare due o più resistori in serie vorrà dire collegarli in modo tale che formino una sorta... una catena. Due o più resistenze si dicono collegate in serie quando sono attraversate dalla stessa corrente elettrica. Cioè, il collegamento in serie prevede che l'estremità di un resistore sia collegata con l'estremità di un altro, come se fossero a tutti gli effetti persone che si prendono per mano a formare una sorta di catena umana. Volete un esempio di collegamento in serie? Le lampadine dell'albero di Natale, le quali sono tutte attraversate dalla stessa corrente, tant'è vero che se se ne fulmina una si spengono tutte. Possiamo anche però, tramite una combinazione particolare, restringere la corrente. Un po' tramite il primo resistore, un po' di più tramite il resistore successivo e così via. Quindi, in definitiva, l'effetto della combinazione in serie risulta essere un incremento della resistenza complessiva. Calcoli! Per determinare la resistenza equivalente a diversi resistori combinati in serie, basterà semplicemente sommare i valori delle rispettive resistenze. Quindi R1, R2, R3, R4, R5... esatto. In sintesi, il collegamento in serie presenta tre proprietà. Esiste un solo percorso e pertanto la corrente ha lo stesso valore in qualsiasi punto del circuito. Ogni utilizzatore è soggetto ad una tensione minore di quella fornita dal generatore, perché viene ripartita tra tutti gli altri utilizzatori collegati. La somma delle singole tensioni è uguale a V, cioè V uguale a V1 più V2 più V3. 3. La resistenza totale R della serie equivale alla somma delle singole resistenze. R totale uguale a R1 più R2 più R3 più R4. Collegamento di resistenze in parallelo. Due o più resistori sono collegati in parallelo quando sono sottoposti alla stessa tensione. Così. In questo modo, l'interruzione di un una qualsiasi resistenza non fa sì che si interrompano anche le altre. Se le lampadine di Natale fossero messe in parallelo, se se ne fulmina una, pazienza, ne rimangono altre centomila. La tensione V fornita dal generatore è applicata ad ogni resistenza. La corrente I generata dal generatore è uguale alla somma delle correnti che circolano nelle varie resistenze. E l'inverso della resistenza totale di un collegamento di resistenze in parallelo è pari alla somma degli inversi delle singole resistenze. Legge di Ohm. Signori, ci siamo. Uno dei concetti più importanti in assoluto in elettrotecnica ed anche in elettronica è la relazione tra tensione, intensità e resistenza all'interno di un circuito, sintetizzata dalla famosa equazione nota come legge di Ohm. Questa rappresenta la relazione dell'elettrotecnica, la relazione cardine che trova un legame tra le tre grandezze fondamentali, la tensione, la corrente e la resistenza. V uguale ad R per I. Ma non solo. Ricordate un po' di algebra? Sì, ok, va bene, ci penso io. È possibile riarrangiare i termini di un'equazione contenente alcune variabili, come ad esempio x e y, al fine di risolvere l'equazione stessa in termini di una variabile quando si conosca però il valore di tutte le altre. La stessa regola la possiamo applicare alla legge di Ohm. È possibile quindi riordinare i suoi termini al fine di creare due ulteriori equazioni, per un totale di tre equazioni ottenute a partire da una sola legge. V uguale a R per I, I uguale a V fratto R ed R uguale a V fratto I. In modo semplice, la legge di Ohm dice che in un qualsiasi conduttore la tensione V applicata ai suoi estremi è direttamente proporzionale all'intensità I della corrente che scorre in esso tramite una costante di proporzionalità, che è costituita dalla resistenza elettrica R del conduttore stesso. In pratica, stabilisce che la quantità di cariche elettriche che passano in una sezione del conduttore in una determinata unità di tempo, quindi l'intensità, aumenta col crescere della tensione, della differenza di potenziale fra i due poli del conduttore, e diminuisce al crescere della resistenza. Quindi l'intensità elettrica è direttamente proporzionale al crescere della tensione ed inversamente proporzionale all'aumentare della resistenza. Ma scenderemo più a fondo nel videocorso. Abbiamo finito, questa lezione base sull'elettrotecnica è terminata, seguiranno altri video più specifici sull'argomento, ma nel frattempo fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti. Grazie, grazie davvero. Ci vediamo alla prossima.